proseguendo nella lettura del vangelo secondo matteo e continuando a leggere la sezione del vangelo che ha per titolo il discorso sulla comunità dei discepoli si arriva al brano del vangelo intitolato parabola del servo spietato allora pietro gli si avvicinò gli disse signore se il mio fratello commette colpe contro di me quante volte dovrò perdonargli fino a sette volte e gesù gli rispose non ti dico fino a sette volte ma fino a settanta volte sette per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti poiché costui non era in grado di restituire il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie i figli e quanto possiedeva e così saldasse il debito allora il servo prostrato a terra lo sopplicava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa il padrone ebbe compassione di quel servo lo lasciò andare e gli condonò il debito appena uscito quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva cento denari lo prese per il collo e lo soffocava dicendo restituisci quello che devi il suo compagno prostrato a terra lo pregava dicendo abbi pazienza con me e ti restituirò ma egli non volle andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito visto quello che accadeva i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto allora il padrone fece chiamare quell'uomo gli disse servo malvacio io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto così anche il padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima